dal libro dell'esodo in quei giorni il signore disse a mosea da ronne in terra d'egitto questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi sarà per voi il primo mese dell'anno parlate a tutta la comunità di israele dite il 10 di questo mese ciascuno si procura un agnello per famiglia un agnello per casa se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello si unirà al vicino il più prossimo alla sua casa secondo il numero delle persone calcolerete come dovrà essere l'agnello secondo quanto ciascuno può mangiarne il vostro agnello sia senza difetto maschio nato nell'anno potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese allora tutta l'assemblea della comunità di israele lui molerà il tramonto preso un po del suo sangue lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno in quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco la mangeranno con azimi e con erbe amare ecco in qual modo lo mangerete con i fianchi cinti i sandali piedi il bastone in mano lo mangerete in fretta e la pasqua del signore in quella notte io passerò per la terra ad egitto e colpirò ogni primo genito nella terra ad egitto uomo animale così farò giustizia di tutti gli dei dell'egitto io sono il signore il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore io vedrò il sangue e passerò oltre non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra ad egitto questo giorno sarà per voi un memoriale lo celebrerete come festa del signore di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne